Amici pazienti, dieta carnivora, dieta onnivora, dieta vegetale, dieta vegana, qual è la dieta migliore? Per noi e per il pianeta si parla tanto di sostenibilità e diete, ma quindi qual è la grande differenza? Dovremmo cercare una dieta che sia al top per quanto riguarda l'impatto ambientale. Ebbene saprete già da che parte sto, non perché sono mancino ma sono destro, ma sono ambidestro, di mio sono onnivoro, ma cerco sempre comunque di stare attento anche al costo che queste diete hanno a livello ambientale. La carne pensate già che costa tantissimo in termini energetici, idrici, in termini di trasporti, al di là di avere un orto personale che sicuramente tutta la naturalità e l'accuratezza che si ha nell'avere dentro casa stessa un orto, molto meglio che viceversa avere un trasporto di carne mal lavorata, trasformata, ultra processata, che possa portare comunque a delle caratteristiche negative per la mia dieta, con grassi, colesterolo, eccesso proteico, mentre invece nella frutta e nella verdura coltivata nel mio orto io posso trovare tante qualità a un prezzo zero. La dieta sostenibile per il pianeta, ma anche per noi, è quella dieta che ha un impatto pressoché zero e si traduce nettamente in un consumo maggiore di comparto vegetale rispetto al comparto animale, con dovuto eccezioni. E' chiaro che se io sono Tonino il contadino, io non mi chiamo Tonino, però ho un esempio classico e magari ho anche un mio contadino ad arcore personale, consentitemelo, e mi coltiva lui le galline, ho una mia azienda agricola interna con produzione non industriale intensivo, ma un allevamento naturale, quello che dovremmo ritornare noi tutti contro questa eccedenza di produzione industriale a spreco, è chiaro che tutti gli alimenti e la qualità al top di uova, frutta, formaggio, verdura, la carne che mi potrà anche dare dalla gallina, dal coniglio, o seppure non vogliamo mangiarli diventiamo vegetariani, non vegani, vegetariani, in senso latto ovo, vegetariani, pescetariani, potrò sì usufruire dei loro prodotti che mi daranno. E questa deve essere la sostenibilità ambientale, far sì che l'ambiente venga incontro alle mie esigenze, ma che anch'io vada incontro alle sue, senza scontrarci, perché sarebbe uno scontro impari. E l'uomo si sa, qualsiasi cosa ne ha la sfrutta, ma la sfrutta oltre fin troppo, la depaupera. Ecco che dobbiamo trovare un punto di incontro, ma che sta a noi, contro la nostra avidità, per capire bene come mangiare in maniera equilibrata. Ma non tanto equilibrata per noi, per mantenere la Terra in equilibrio, il posto dove noi viviamo, dove siamo e dove saremo. La Terra, la dieta per il pianeta Terra. Questo e altro su Dr. Beska. Iscrivetevi sempre al canale, attivate la campanellina e altre diete per voi.